Ciao a tutti ragazzi, sono Filofrax del Colossi Clan e oggi sono qui per parlarvi di due semplicissimi argomenti. Il primo riguarda il nuovo DLC di GTA V che uscirà il 7 giugno su Xbox One, PS4 e PC, chiamato Fenomeni del Furto della Finanza. Come preannunciato da Rockstar sarà uno dei più grandi update di GTA V Online e permetterà ai giocatori di istituire organizzazioni criminali e comprare un quartiere generale per ottenere merci da contrabbando da rivendere sul mercato illegale di Los Santos per tranne profitto perché sennò sarebbe inutile. Inoltre l'update includerà anche nuovi veicoli come la Pegasiri per una macchina fantastica a parer mio che sarà molto più bella e veloce della T20 uscita nel DLC precedente. Il secondo argomento di cui parlare sarà una nuova serie intitolata in un modo assai misterioso. No vabbè, non so ancora il titolo, non so come chiamarla bene, comunque sarà una specie di gare malate nella quale ci saranno World Ride, Loop e tanto altro in compagnia dei miei compagni di clan. Ovviamente non trascorrerò COD perché come molti di voi sanno facciamo molti tornei competitive e molti di questi sono importanti. Ne faremo uno anche domenica 5 dove vi porteremo magari dei momenti salienti delle partite. Il torneo riguarderà soprattutto Search and Destroy e nel caso si arrivasse in finale che durerà veramente tanto perché è organizzata Greenwich quindi sarà un'ora avanti qua e nel caso si vincesse si dovrà restare ovviamente svegli fino a mezzanotte però in palio ci saranno un bel po' di soldi. Con questo video vorrei anche spiegarvi e salutarvi e ringraziarvi per essere stati con noi e non esservi disiscritti perché siamo stati inattivi per tanto tempo e vi volevo ringraziare per comunque stiamo crescendo insieme e vogliamo crescere insieme a voi ancora di più fino magari a raggiungere livelli molto più alti e arrivare magari a livelli per esempio 2 milioni di iscritti no vabbè sto scherzando comunque l'importante è giocare in compagnia e divertirsi. Va bene il video si è concluso qui stavo guidando una fantastica Mini Cooper Blue e sono arrivato prima ero con questo qua che non sapeva tanto guidare bene con questa macchina rosa e vi porterò successivamente video su GT5. Bella! Grazie a tutti!